Ci sono persone che vorrebbero riaprire subito tutto e persone che invece vorrebbero continuare a tenere i negozi, le attività economiche ferme. Si tratta di due programmi mentali differenti. Da una parte ci sono le persone verso, le persone che vogliono andare verso un obiettivo, a volte costi quel che costi, senza vedere i pericoli. E dall'altra parte ci sono le persone che in psicologia, in PNL, chiamiamo via da. Persone che sono paurose, bloccate dalla paura, il che non è necessariamente sempre una cosa negativa. Nessuno dei due è meglio dell'altro. Le persone verso hanno di buono che vogliono raggiungere un risultato, ma non vedono i rischi. Le persone via da hanno paura di quello che potrebbe succedere, quindi vedono i rischi, sono attente, ma la loro paura rischia di bloccarle e corrono il rischio di commettere l'errore più grande per timore di commettere errori, che è non fare proprio nulla. Buona giornata e condividi questo filmato perché è importante, soprattutto in questo periodo, condividere la positività.